Omar Serravalli è il nuovo allenatore della scuola Baschetta Rezzo. La guida tecnica della prima squadra è stata quindi affidata per il finale di stagione a coach Serravalli. Al suo fianco nel ruolo di vice allenatore viene confermato Mirko Pasquinuzzi, ringraziato dalla società per la collaborazione fornita nell'ultimo mese quando ha guidato in prima persona la squadra. Omar Serravalli dopo una lunga carriera da giocatore, dove tra le altre ha vestito le maglie di Menzana Siena e Galli San Giovanni Valdarno, in panchina ha guidato Reggello e Valdisieve vincendo tre campionate prima di passare alle giovanili del centro mini basket Arno. Coach Serravalli dirigerà già martedì il primo allenamento.